Il rock progressivo approda anche nel Golfo di Policastro. Il 27 giugno nella cittadina della Spigolatrice si terrà infatti il Reprog, il primo raduno pop progressivo campano targato BAM, la bottega artistico-musicale di Sapri che sabato pomeriggio presso i suoi spazi radunerà particolari band del settore provenienti da Salerno, Avellino e Napoli con l'ambizione di dare nuova linfa e maggiore visibilità a rock progressivo made in Campania. In quella terra che negli anni 70 ha partorito storici interpreti del nuovo corso musicale di matrice strumentale come gli Showman, i Città Frontale, gli Osanna, il Balletto di Bronzo, il Cervello e Napoli Centrale nonché gli istrionici Alan Sorrenti, Jenny Sorrenti e i Sun Just. Saranno cinque gruppi ospiti della manifestazione, tra questi la Salernitana Cogni e le Visioni Sonore Progressive, band di recente formazione nata nel 2014 dall'unione di quattro personalità artistiche diverse e messaggera del rock psichedelico, e il notturno concertante, veterani dell'evento e imponente gruppo avellinese con all'attivo 6 CD e un trascorso di numerosi passaggi radiofonici. Da segnalare inoltre le loro musiche, composte e utilizzate da Rai International e da Canale 5, parte della colonna sonora del film Natale rubato con Patrizio Rispo e la recente pubblicazione del brano Nocturne, nell'ambito di una compilation europea. Il raduno concerto, che si terrà a Sapri, ospiterà anche la Barnum's Freak e i gruppi Locus Amerus e Zion. Il reprog si svolgerà a partire dalle 17 nel BAM Garden, giardino della bottega accessibile e aperto a tutta la cittadinanza. Grazie a tutti.